Come può uno stesso soggetto esercitare contemporaneamente la professione di meccanico, carrozziere e essere anche un naturopata? Si divideva tra la sua carrozzeria e lo studio da naturopata, dalla tuta blu di carrozziere al camice bianco di medico, una doppia vita professionale piuttosto incredibile ma che era realtà. Le fiamme gialle di Arezzo dopo delicate indagini hanno scoperto un uomo che oltre ad essere socio di un'attività di carrozzeria e di commercio di autovetture esercitava anche la professione di naturopata, disciplina che una legge della regione toscana inserisce tra quelle cosiddette del benessere bionaturali, da considerarsi quindi non medica e neanche paramedica, non erogabile dal servizio sanitario e come unica finalità deve avere quella dell'educazione e della prevenzione del benessere della persona. Le indagini dei finanzieri del Nucleo di Polizia Economica Finanziaria di Arezzo attraverso perquisizioni domiciliari e l'ascolto di numerosi pazienti, tra virgolette, hanno permesso di scoprire una vera e propria attività medica che era stata messa in atto dall'uomo con tanto di visita e raccolta dell'anamnesi dei pazienti anche mediante l'esame di referti di laboratorio o altri esami clinici, anche invasivi, fino alla prescrizione di farmaci. Eseguiva l'anamnesi dei pazienti, quindi si esprimeva sullo stato di salute dei pazienti attraverso l'analisi dei referti di laboratorio, quindi entrando nel campo della diagnostica, fino anche in alcuni casi la prescrizione di farmaci, cose che la legge riserva solo ed esclusivamente ai medici. In un caso abbiamo riscontrato anche una palpazione addominale nei confronti di una persona che aveva uno stato di bisogno accentuato, significativo, e quindi in questi casi la legge riserva queste particolari tecniche esclusivamente ai medici. Purtroppo c'erano anche ignari pazienti affetti da gravi patologie ai quali venivano fornite indicazioni per la cura degli effetti collaterali delle terapie farmacologiche a cui erano sottoposti. Di fondamentale importanza per la ricostruzione dei fatti sono state proprio le testimonianze degli assistiti. I titoli accademici che il professionista si vantava di possedere risultavano essere stati rilasciati da università italiane destere, non riconosciute però dall'ordinamento italiano. Per questo motivo l'uomo è stato denunciato per esercizio abusivo della professione medica. Chi non è medico non ha una cultura, non ha fatto un percorso formativo quale abbiamo fatto noi medici, che vi ricordo sono i sei anni di università seguiti poi per chi ha la specializzazione da diversi altri anni, dai 4 ai 5 di specializzazione ulteriore. Quindi è un percorso formativo importante, molto lungo, molto complesso, estremamente approfondito. Chi non ha queste conoscenze, chi non ha questa preparazione, difficilmente può utilizzare qualche cosa senza combinare qualche guaio. E quindi il rischio che si corre maggiormente è quello di ritrovarsi in mano a persone che non sono in grado di fare la professione medica. Questo che è l'aspetto più grave. Grazie a tutti.